Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Mobile Eccoci qui in questo primo nuovo video Allora spero che questo format vi piaccia di gameplay Riscattiamo qua le missioni livello 3 E vi faccio vedere un po' le mie armuzze Qua abbiamo l'equipaggiamento 1, l'assalto, il cecchino, la mitraglietta e mitraglietta leggera Leggera è modo di dire perché abbiamo questo bel mitraglione M4 LMG Che abbiamo comprato, che ho comprato ieri, l'altro giorno E vi lascio qua la clip Ok ragazzi Andiamo a fare subito una bella partitina E vediamo come è questa arma Non l'ho ancora quasi provata Ho aggiunto proprio le cose necessarie E adesso andiamo a vedere com'è E se ci piace, se ve la consiglio Spero che questi video vi piacciono di COD E mettiamo un po' E che andrà bene, che vi piaccia Allora Vediamo un po' Allora La pecca di quest'arma Che vedo da subito Che è molto lenta Molto molto lenta Però è È un'arma da mischia Vedete appunto che Mamma mia Ho smirato come Come non so che ho smirato È lenta È lenta Infatti Metto sempre la pistola in mano Quando corro Per migliorare È lenta Sì Tiriamo una grata Eh mamma mia Ma beccato Sì ragazzi Vediamo quante Che riesco a fare Poi con quest'arma Basiamoci su quello Ok Due uccisi Anche a caricare Molto lento Ma comunque Non bisogna quasi mai caricare Perché è un caricatore Molto grande E che a me Viene in automatico caricare Perché di solito Uso la K 117 Che finora è la mia Arma preferita Che dopo vi faccio vedere Come Si gioca Mannaglia da dietro Maspero Ok ragazzi Quante kill siamo Siamo a 6 kill Però non mi sembra Granché Comunque la skin È fantastica Vale 20.000 credit È solo per la skin Ok Lanciamo una bella granata Passiamo per di qua Ammozzato Mamma mia È molto lenta A sparare A ricaricare A muoversi Certo Allora Io ci ho messo Il calcio Credo Che per migliorare La situazione Il caricatore È steso Ok Ok Oh granatina Mamma mia Con il drone Ma Ma Stiamo perdendo Stiamo perdendo Di 10 punti Dopo Mi metto La k Così Vi faccio vedere Le differenze Certo È un'arma Da mischia Quando ci sono Tante persone Ok Mettiamo La k Che come vi ho detto È la mia arma preferita Fino ad adesso E vedete ragazzi La velocità Di quest'anno Spara sia da lontano Che da vicino 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 Grazie a tutti.